Creare lavoro quando il lavoro manca. In un incontro presso la biblioteca della Camera dei Deputati a Roma, Feder Casalinghe ha fatto il punto su quali sono le figure professionali che possono permettere alle donne di essere una risorsa per loro stesse e la collettività. Come le tag smuter che badano ad altri bambini insieme ai propri figli, oppure le tutor di condominio, punto di riferimento dei vicini in caso di necessità, andare a prendere i figli a scuola, fare la spesa, andare a pagare le bollette. C'è un mondo abbastanza importante di lavori retribuiti che si possono fare senza rendere la propria vita un disastro. Non crediamo, ascoltiamo le cifre terribili, ma non ci crediamo fino in fondo, combattiamole. Noi siamo propositive, andiamo all'assalto del lavoro che c'è. Un'occasione di lavoro per le donne, una risorsa per le famiglie. Dare la possibilità di dare un'integrazione del salario alle famiglie, sia dalle persone che hanno un lavoro part-time, sia dalle persone che non lavorano. In questo momento di difficoltà è una fonte importante di guadagno. I lavori occasionali si possono pagare con il sistema dei voucher, ma esiste anche la possibilità di creare micro imprese casalinghe. Insieme a IMSS per lo sviluppo dei voucher dei lavori occasionali che trovano proprio in primis nelle casalinghe, come anche nei giovani studenti, un target di riferimento, in quanto di per sé conciliabili proprio con attività di lavoro occasionale. L'altra di come supportare l'avvio di impresa, quindi di piccole neoimprenditrici, soprattutto nell'area welfare, per favorirne l'avvio e lo start-up. Per maggiori informazioni www.donne.it